All'alba del 4 giugno una ventina di carabinieri della compagnia di Nicosia hanno eseguito un provvedimento di custodia caudelare emesso dal Tribunale di Enna e perquisizione nei confronti di tre pregiudicati catanesi, il trentenne Francesco Buscema, il trentadueenne Antonino Zappulla ed il sessantacinquenne Francesco Zappulla. I tre sono ritenuti responsabili di aver compiuto lo scorso 18 aprile 2016 a Regalbuto due tentativi di rapina in danno di due donne. Gli arrestati seguivano sempre lo stesso modus operandi. Individuavano le vittime all'interno dell'ufficio postale e dopo essersi assicurati che le stesse avevano prelevato cospicui sommi di denaro le pedinavano e lontani da occhi indiscreti con violenza e minacce le rapinavano della borsa e dell'oro che indossavano. Una banda di veri e propri specialisti in rapine a persone indifese. Le accuse sono tentata rapina, aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Le indagini condotte dai carabini della stazione di Regalbuto e coordinate dal sostituto procuratore Stefania Leonte della procura della Repubblica di Enna hanno permesso di ricostruire le modalità predatorie dei malviventi. La banda, composta da Francesco Busceme e Francesco Zappulla, entrambi a bordo di un SUV nero e il figlio di quest'ultimo Antonino Zappulla a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, raggiungevano l'ufficio postale di Regalbuto. Una volta giunti, Francesco Zappulla con il compito di individuare le vittime all'interno scendeva dal mezzo ed entrava all'interno dell'ufficio postale. Individuata la vittima, Antonino Zappulla indicava la vittima attraverso un gesto ai due complici. Busceme scendeva dal mezzo e cominciava a pedinare la prima vittima, seguito dal complice Antonino Zappulla a bordo dello scooter che recuperava il Busceme a delitto compiuto. La prima donna, pedinata per diversi mesi, si accorgeva della presenza dei soggetti e riusciva a scappare. La banda, allora con le stesse modalità, individuava un'altra malcapitata che dopo essere uscita dall'ufficio postale veniva pedinata e allontanata da occhi indiscreti, rapinata della borsa e dell'oro. A seguito della reazione improvvisa e inaspettata della vittima, che cominciava a gridare e a dimenarsi, il Busceme e lo Zappulla erano costretti a darsi a repentina fuga a bordo dello scooterone, protetti dal padre che alla guida del SUV nero, con una natura lenta, proteggeva loro la fuga. Le indagini sono state condotte mediante metodi tradizionali, analisi delle telecamere, riconoscimento diretto degli indagati e stamane, al termine delle operazioni di rito, i tre arrestati sono stati condotti presso le proprie abitazioni a Catania in regime di detenzione domiciliare.